Siamo con Davide Capozzi qui alla Camera di Commercio dell'Impeia per la presentazione del progetto Forma. Ecco, di che cosa si tratta? Buongiorno a tutti, abbiamo organizzato oggi questo convegno. Siamo appunto all'interno dei lavori del progetto Forma, che è un progetto FAMI, cioè è un progetto europeo a valere sul fondo della migrazione e dell'integrazione del Ministero dell'Interno. Noi della cooperativa Geobel siamo partner per la provincia dell'Uteria. È un progetto che si occupa sostanzialmente di migranti e agricoltura. E quindi è un progetto in cui noi crediamo perché per le specificità di questo territorio, in cui l'agricoltura è ovviamente una componente importante dei processi di integrazione sociolavorativa dei migranti. Discutiamo oggi, facciamo un po' il punto anche con tante altre realtà del territorio, a che punto siamo appunto su questo tema. L'integrazione dei migranti attraverso il lavoro in agricoltura, cerchiamo di capire cosa è in atto, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, quali sono le cose positive, quali sono le criticità, cosa può essere fatto meglio. Insomma cerchiamo di essere tutti un po' più consapevoli del percorso che in generale si sta facendo su questo territorio. Ecco, è finalizzato anche al contrasto e lo sfruttamento in ambito lavorativo. Assolutamente sì, uno degli obiettivi principali del progetto Fan Informa è la lotta al caporalato, in entrambi i sensi, cioè sia da parte dei cittadini di paesi terzi, cioè dei lavoratori, sia da parte delle imprese agricole. Entrambi sono i nostri obiettivi, diciamo, cerchiamo di coinvolgerli il più possibile e di rendere entrambe queste due parti consapevoli di come fare le cose per bene.